Un incontro organizzato per discutere delle priorità del territorio, ma anche per avviare un percorso di lavoro congiunto, tra duenti di fatto governati dalla stessa parte politica. Venerdì mattina il presidente della provincia di Pavia, Giovanni Palli, ha incontrato i quattro consiglieri regionali pavesi neoeletti, Elena Lucchini, Ruggero Invernizzi, Alessandro Cantoni e Claudio Mangiarotti. Diversi gli argomenti sul tavolo, dalle infrastrutture alla sanità fino all'agricoltura, temi che rimangono centrali nel dibattito politico locale e per i quali sia la provincia che i consiglieri cercheranno di fare sistema. Con una forte rappresentanza di centrodestra tra i banchi del Pirellone si fa quindi più concreta la possibilità di portare le stanze del territorio a Milano. Gli stessi consiglieri hanno sottolineato che l'obiettivo è fare fronte comune per risolvere i problemi della provincia a partire proprio dalle infrastrutture sulle quali occorre un cambio di passo. La situazione di ponti e strade del resto è sotto gli occhi di tutti. Il presidente Palli ha quindi rilanciato la proposta di realizzare un nuovo casello autostradale a Pieve Albignola così da avere uno snodo viabilistico che permetta di limitare il passaggio di mezzi pesanti sulle provinciali. Una possibilità di cui si parla da anni ormai ma per la quale non c'è ancora un progetto vero e proprio. Insomma si vedrà dalla provincia intanto. Fanno sapere che all'incontro di venerdì ne seguiranno altri con cadenza regolare.